In un Veneto sempre più impaurito ma anche arrabbiato continuano quotidianamente a fioccare atti di criminalità spesso molto gravi. E' sempre più preoccupato il governatore del Veneto Luca Zaia per un escalation di criminalità di cui la rapina di Nanto rappresenta solo la punta dell'iceberg. La lista di oggi si ferma a 21 crimini, ieri erano stati 27, ha detto il presidente, nessun morto, nessun ferito grave, oggi c'è andata bene. Anche questo bollettino lo invio e lo dedico al governo distratto e lontano dalla gente, dice Zaia, annunciando che il suo sarà un vero e proprio tormentone ripetuto se necessario anche quotidianamente finché lo Stato non agirà. Oggi intanto Zaia ha anche partecipato a Venezia alla manifestazione della Coldiretti per proteggere il latte italiano. Dobbiamo fare quello che assolutamente bisogna fare a salvaguardia delle 3.463 aziende agricole del Veneto, a salvaguardia ovviamente dei tanti produttori che abbiamo. Ricordiamo che di 110 milioni di quintali di latte prodotti a livello nazionale ne abbiamo oltre 80 milioni prodotti fuori dall'Italia, che vuol dire che almeno 3 confezioni di latte lunga conservazione su 4 vengono dall'estero. Oggi dobbiamo riprendere il progetto che ho lasciato a livello nazionale, ovvero il progetto dell'origine obbligatoria per dar modo ai consumatori di conoscere l'origine del prodotto.